Allora, secondo me l'organizzazione è strutturata bene e anche con un ottimo livello, sia di ugualità che di giovinezza e di attenzione. Anche i giudici sono ottimi, bravi, esperti e onesti, per fortuna. È un'organizzazione che per me avrà un ottimo futuro rispetto a altre organizzazioni. Non si fa male. Sono contento, ecco. Contento.